signori buongiorno e bentornati sul canale del mastercare io sono il mastercare il vostro ospite su questo canale due settimane fa quando abbiamo parlato del metagioco ho detto che il metatesto è uno dei livelli a cui il testo si scompone ma di pari importanza c'è anche il paratesto e nel nostro caso parlando di giochi di ruolo il paragioco il paragioco è uno di quegli aspetti che molto spesso viene ignorato sia nella pratica sia anche nei discorsi teorici sul gioco di ruolo e fondamentalmente si lascia che i master se la sbrighino da soli e comprendano da soli cosa sia a cosa serva ora secondo me questo è un atteggiamento fondamentalmente sbagliato il paragioco ha la stessa dignità del metagioco se non in certi casi anche superiore quindi questa settimana finiamo il nostro discorso sul metagioco andando a parlare proprio del paragioco se il metagioco comprende tutti quegli elementi che sono presenti all'interno del testo di gioco ma che non sono giustificati a meno che non si vada a vedere delle fonti esterne il paragioco è quello che racchiude tutti gli elementi che non sono presenti all'interno del testo di gioco ma che comunque hanno una forte influenza su di questo sì lo so detta così sembra incredibilmente complicata adesso mi spiego quando voi come master organizzate una quest o anche una singola sessione di gioco potete volontariamente o meno decidere di inserire degli elementi di metagioco potete per esempio inserire dei temi sociali rappresentati in forma allegorica potete inserire un personaggio preso da un libro da un film però queste sono vostre scelte volontarie ci sono un sacco di altri fatti che volenti o lenti andranno a influenzare il modo in cui quella quest verrà preparata e che devono essere tenuti in considerazione per evitare che il lavoro fondamentalmente vi scoppi in mano questi elementi che dipendono dal gioco dal gruppo dal tavolo sono proprio gli elementi di paragioco di cui andremo a dare un'occhiata questa settimana il primo elemento di paragioco da prendere in considerazione è il gruppo di gioco stesso non esistono due gruppi di gioco uguali non esistono due giocatori di ruolo uguali e voi come master dovrete andare ad adattare le vostre storie ai gusti alle esigenze del gruppo di gioco per cui sono state pensate se voi avete un gruppo di gioco che apprezza particolarmente l'azione e il combattimento probabilmente le vostre quest includeranno un grosso numero di scene di azione e di combattimento magari saranno proprio strutturate perché gli eventi più salienti della trama accadano durante degli scontri fisici con i propri avversari e il finale della quest sarà un epico combattimento contro il boss finale al contrario se il vostro gruppo è molto più interessato magari agli indizi all'intrigo le vostre quest diventeranno dei thriller con molte più scene di investigazione e indagine e scene in cui vengono esplorate le motivazioni o i risvolti psicologici dei vari png e un numero di combattimenti molto limitato se non del tutto assente la scelta se inserire più o meno scene di combattimento o qualunque altro tipo di scena quindi non dipenderà dalla storia che voi state raccontando ma sarà la storia a venire influenzata da un elemento esterno le scelte del party di conseguenza questo diventerà il fondamentale elemento di paragioco di quella storia per dirla in maniera più corretta le situazioni che verranno a trovarsi durante la quest non saranno direttamente influenzate dalla storia ma saranno influenzate da degli elementi estetici esterni che vengono introdotti per giustificare la presenza di quelle scene la stessa scelta del gioco va a influenzare il tipo di storie che verranno raccontate e di conseguenza va a influenzare tutta l'organizzazione che c'è dietro il racconto di quelle storie in alcuni casi è ovvio se state giocando a dungeons and dragon racconterete una storia fantasy se state giocando a the call of tulu racconterete un horror gotico sono due generi diversi e quindi le quest verranno strutturate seguendo due canoni diversi ma la scelta del gioco non solo va a influenzare il canone a cui la storia deve attenersi ma crea anche delle aspettative da parte del tavolo su che tipo di storia verrà raccontata e come loro dovranno approcciarsi a quel tipo di storia per fare un esempio concreto questo è dark eresi un gioco ambientato in un remoto futuro in ambientazione di fantascienza i cui giocatori vengono chiamati da un'autorità superiore immersi in un mondo di politiche bizantine in cui dovranno fondamentalmente smascherare dei gruppi terroristici e questo invece paranoia un gioco in un ambientazione di fantascienza in cui in un remoto futuro i giocatori vengono chiamati da un'autorità superiore introdotti a un mondo di politiche sbizzantine in cui dovranno fondamentalmente smascherare dei gruppi terroristici le premesse di entrambi i giochi sono virtualmente identiche le storie che invece vengono raccontate e le aspettative che i giocatori hanno verso queste storie invece sono molto diverse per un motivo molto semplice questo è un gioco volutamente satirico ed è un gioco che non si prende sul serio che serve per raccontare storie buffe e divertenti i giocatori che giocano a paranoia si aspettano di ridere durante la sessione di gioco al contrario Dark Eresy è un gioco che si prende molto sul serio e la sua ambientazione non è né satirica né divertente se non in un contesto di umorismo incredibilmente nero l'ambientazione è quella di Warhammer 40.000 quando si parla di Grimdark ci si sta riferendo esplicitamente a quello all'interno delle avventure che vengono raccontate non c'è un motivo per cui in un caso il mondo è cupo e macabro e nell'altro invece è leggero e demenziale è il presupposto che si ha di quel gioco ad andare a influenzare la storia un gruppo che decidesse di giocare a paranoia prendendo sul serio l'ambientazione del gioco potrebbe anche divertirsi ma rovinerebbe l'esperienza allo stesso modo in cui un gruppo di Dark Eresy che decidesse di buttare sul ridere un'invasione da parte dei demoni da oltre la realtà un altro fattore paratestuale molto importante sono le condizioni in cui fisicamente quella quest verrà portata al tavolo per esempio molti giochi prevedono l'uso di un sottosistema di combattimento tattico per risolvere le scene di combattimento molto probabilmente strutturato intorno a un qualche tipo di griglia quadrettata su cui bisogna muovere delle miniature ora se voi giocate a un tavolo che ha effettivamente lo spazio per montare una griglia o magari giocate via rete con roll to enti in modo che tutti i giocatori possano vedere la griglia di combattimento sarà molto facile per voi inserire scene di combattimento anche al volo al contrario se voi giocate in spazi ristretti magari giocate in telepresenza ma solo tramite Skype con possibilità limitate di mandare immagini ogni scena di combattimento diventerà molto più complessa da rendere al tavolo e di conseguenza la quantità di scene di questo tipo che potete inserire dipenderà non tanto dalla storia o dalle preferenze del party ma la vostra abilità fisica di poter rendere in maniera decente quelle scene durante la sessione anche il tempo che avete a disposizione per giocare può andare a influenzare come approcciate la quest se voi giocate per sessioni molto corte magari solamente un paio d'ore alla settimana ogni sessione non comprenderà più di un paio di scene al contrario se voi avete a disposizione tempi più lunghi magari giocate per 5 o 6 ore per un intero fine settimana non solo potrete inserire più scene ma quelle scene potranno essere anche più complesse dato che non c'è la possibilità che i giocatori si dimentichino cosa sta succedendo perché è passato troppo tempo tra una cena e l'altra il numero stesso dei giocatori potrebbe andare a influenzare come la quest viene sia percepita che presentata più giocatori ci sono più i tempi si allungano a seconda di quanto tempo avete a disposizione questo però potrebbe non essere possibile di conseguenza i giocatori avranno singolarmente meno tempo a disposizione per rendere la propria linea narrativa del proprio personaggio rilevante prendetela come una regola abbastanza arbitraria ma in linea di massima più giocatori ci sono al tavolo meno le loro linee narrative sono rilevanti rispetto a linea narrativa principale questi sono tutti elementi a cui dovete fare molta attenzione perché una quest potrebbe venire del tutto rovinata semplicemente perché nonostante sia di base dell'ottimo materiale viene presentata al tavolo in delle condizioni che non gli permettono di funzionare come era stata pensata per fare ovviamente la lista di tutti i possibili elementi di paragioco non si limita esclusivamente a questi ma credo che questi siano un buon esempio per farvi capire perché il paragioco è importante e perché dovete sempre tenerlo in considerazione sia durante la fase di preparazione sia durante la fase di gestione della quest ovviamente adesso la parola sta a voi fatemi sapere nella sessione dei commenti quali sono gli elementi di paragioco che per voi sono importanti e come li gestite durante le vostre quest e come sempre scrivetemi anche se avete domande, dubbi, perplessità se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il Master CAE noi ci vediamo nel prossimo video